A Franco Sturzi abbiamo chiesto di aprire la giornata parlandoci del rapporto con le imprese in un ambito di particolare interesse per tutto il sistema, credo che sia quello dei controlli. Prego Franco, hai 20 minuti di tempo per la presentazione. Buongiorno, grazie Ingegner Pini, un saluto ai direttori generali del sistema, al dottor Bratti e immagino diversi rappresentanti delle imprese. Il titolo che mi è stato assegnato, primo intervento, quindi sento un po' la responsabilità di far partire il convegno, è sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e il rapporto con le imprese nel contesto dei controlli, ho aggiunto io, perché il tema di tutto il convegno è orientato sull'aspetto dei controlli. Dicevo l'ingegner Pini, sono un direttore tecnico protempore dell'ARPA Friulenza Giulia, sono stagionato, ho una lunga storia di rapporto con le imprese, la mia attività è sempre stata nell'ARPA, mi ha visto coinvolto proprio nell'attività di controllo, chiamiamolo controllo tradizionale, sottolineo la parola controllo tradizionale perché dopo ci ragionerò un po' sopra. e quindi l'invito che è stato formulato di aprire un pochino, parlando del rapporto tra il sistema e le imprese nell'ambito di controllo, è un argomento che ho trovato particolarmente stimolante. Mi sono fatto delle domande nel momento in cui dovevo organizzare la chiacchierata e le domande le ho centrate, rispetto al titolo, sulla parola rapporto. Quindi non sistema, non impresa, ma il rapporto tra sistema e imprese. E mi sono fatto delle domande che sono crescenti, domande retoriche, domande più impegnative. La prima domanda mi sono fatto dovuto, poi è utile, è trasparente? Il rapporto tra sistema e con imprese, nell'ambito, nel contesto dei controlli, genera processi di miglioramento? E rispetto a cosa? Rispetto alla norma? All'impresa? Vedete che cito all'impresa rispetto a un miglioramento ambientale o anche non solo ambientale. Genera processi di miglioramento per il sistema? Alla norma ambientale? al quadro ambientale? E l'ultima, la più complicata? Al conseguimento degli obiettivi e delle politiche ambientali? Questi sono temi che vedete dalla prima domanda all'ultima, siamo passati dalla prima domanda che la risposta è facile, sì. Man mano che andiamo avanti è più complicato e si inserisce molto bene in quello che è la vision piuttosto che la mission del sistema nazionale della protezione dell'ambiente. Passo avanti. Qualche riferimento per capire come ci muoviamo per gestire, per organizzare il rapporto tra sistema e imprese. In mezzo ho messo la legge istitutiva, abbiamo finalmente questa importantissima legge, noi ci siamo affezionati, la sentiamo tantissima, la legge che riconosce il sistema per la protezione ambientale nel nostro paese. E poi da una parte all'altra, a sinistra a destra, ho messo la normativa di settore, l'infinita normativa di settore, in materia ambientale, l'infinita. E a sinistra, come vedete, c'è il primo programma delle attività del sistema, documento fondamentale per il sistema, perché è un documento, il primo del sistema, piano delle azioni, ritroviamo delle attenzioni su quella che è la mission del sistema, ritroviamo anche degli elementi rispetto a quella che è la vision del sistema, molto importante rispetto a quello che è il rapporto tra sistema e imprese. E poi vediamo anche nell'ultima parte quella che forse magari gli addetti lavori, noi, noi arpisti dell'ISP, andiamo subito a vedere, sono i target. Cioè cosa vogliamo fare, che risultati, che indicatori, che numeri vogliamo portare a casa in questo triennio rispetto a quello che sentiamo come sistema, come la sfida più importante, a rendere omogeneo, uniforme, equilibrato il sistema che parte da una buona dose di disequilibrio. Parliamo di controlli in questo momento. Allora di cosa stiamo parlando? Ne ho citato quattro esempi, perché ho detto un momento fa che la norma è infinita, ho citato quattro esempi che tutti riconosciamo, sono quelli che assorbono le maggiori energie da parte del sistema, è vero similmente le maggiori energie da parte delle imprese. Sono i controlli rispetto alle autorizzazioni integrate ambientali, uso la parola controllo nel senso più tradizionale, i controlli nell'autorizzazione unica ambientale, una cosa ancora molto ampia, abbastanza sconosciuta nelle sue dimensioni, i controlli sul rischio di incidente rilevante. Poi vedete che ho messo tra parentesi una novità secondo me straordinariamente importante per il sistema e per le imprese, che è il nuovo istituto della prescrizione, che la chiamiamo la prescrizione asseverata. Perché l'ho messo tra parentesi? In realtà è uno strumento del controllo la prescrizione asseverata, non è un altro tipo di controllo, però è straordinariamente potente la prescrizione asseverata, lo possiamo dire a distanza di un paio di anni di piena operatività del sistema, perché la prescrizione asseverata è uno straordinario momento di rapporto tra soggetto che controlla e l'impresa per ritornare a una situazione di irregolarità attraverso il dire cosa fare. E quindi è obbligatorio il rapporto tra il soggetto che controlla, che ha il potere di dare la prescrizione per ritornare alla regolarità e l'impresa, perché non può essere una prescrizione di mera devi rispettare la norma, ma devi dire cose da fare. E quindi è un rapporto essenziale per poter strutturare bene la prescrizione e quindi per essere efficaci e quindi produrre risultato, produrre risultato, che in questo caso è quello di ritornare alla regolarità, magari con, se ci si riesce, con processi di miglioramento. Cosa molto delicata. Un qualche numero ho messo, sono numeri che si reperiscono facilmente dai documenti del sistema che si trovano sul sito dell'ISPRA e anche nei siti delle diverse ARPA. Parliamo nel 2016 di 2.402 ispezioni, un'espressione del controllo in imprese soggette ad AIA, 205 controlli di aziende soggette ai sistemi di gestione di Seveso e guardate questo numero che è estremamente importante, 1692, anno 2017, la prima ricognizione che abbiamo fatto come sistema di prescrizioni del sistema. Sapete che le prescrizioni non sono atti esclusivi del sistema, ma sono dei tantissimi organi di controllo che operano in materia mentale, che hanno competenze interna mentale, 1692, quindi novità assoluta, impegno molto grosso del sistema agenziale, sulle prescrizioni severate. Sta maturando un'esperienza, una casistica, che è un patrimonio, secondo me, ma vado oltre, secondo chi si sta occupando e sta operando sul territorio, di straordinario interesse rispetto a quella parola, vi ricordate, sistema, imprese, rapporto. Qui ho cercato di inserire come spunti, ci sarà occasione per il dibattito nel tavolo dedicato al pomeriggio su questi argomenti, quali altre attività supportano, favoriscono, consentono di migliorare i controlli nella logica di rapporto. Questo è perché la visione del rapporto, c'è il convincimento in tutti noi operatori, tutti noi operatori del sistema, che non è il mero verifica del rispetto delle regole, ma è quello di mettere nelle condizioni l'impresa che deve rispettare le regole, l'autorità che deve regolare l'attività dell'impresa, deve conoscere il quadro complessivo dentro il quale l'impresa si colloca. E quindi quali altre attività migliorano l'attività di controllo, migliorano il rapporto con le imprese? La conoscenza dello stato dell'ambiente, secondo me è una cosa determinante, conoscere lo stato dell'ambiente per migliorare i controlli, migliorare la struttura dell'atto regolamentare, implementare. Abbiamo tantissimi casi dove la conoscenza dello stato è determinante, ed è per conto la conoscenza dello stato, il mettere a disposizione dell'impresa, la conoscenza della qualità dell'ambiente in cui è collocata l'impresa, che permetta all'impresa anche di produrre processi di miglioramento del proprio impianto produttivo. La partecipazione ai processi autorizzativi, è il corollario del controllo, è l'altra faccia. La partecipazione ai processi pianificatori, quante volte noi interveniamo, supportiamo la regione, penso la regione, mi viene questo caso qui, ma potremmo parlare dei comuni quando si parla di inquinamento acustico, la conoscenza, l'esperienza maturata nell'attività di controllo e di conoscenza dello stato per fare buoni strumenti di pianificazione, dovrebbe essere la cosa più importante in un sistema nazionale la pianificazione. L'autorizzazione e il controllo dovrebbero venire dopo. Il ruolo del sistema negli strumenti volontari, ho citato l'Emas, l'ISO 14.000 per esempio. Cosa sta facendo il sistema per migliorare i controlli nell'accezione che credo di aver introdotto fino adesso e quindi anche che favorisce il rapporto tra sistema e controlli? I piani di lavoro specifici nei TIC, noi artisti sappiamo e ISPRA sappiamo di cosa parliamo quando parliamo di TIC per le imprese, faccio solo un accenno e nel nuovo modello organizzativo si tratta dei tavoli istruttori del consiglio e quindi è dove si metabolizzano, sono tavoli dove si metabolizzano, si organizzano, si strutturano gli elementi che poi si portano in consiglio diventano elementi decisori. Ci sono diversi tavoli istruttori, uno in particolare si chiama controlli e monitoraggio e quindi sta a significare quanto il consiglio del sistema ha posto l'attenzione sul binomio monitoraggio e controlli. È molto sfidante, guardate i componenti del tavolo sono particolarmente impegnati per dare connotato a questo tavolo e quindi anche mission e vision del sistema rispetto ai controlli e monitoraggio. I gruppi di lavoro che sono all'interno del sistema, organizzati all'interno dei TIC, che sono i gruppi di lavoro dove si fa sintesi delle conoscenze, delle criticità e che generano i prodotti del sistema nazionale. Vedete che c'è scritto prodotti del sistema nazionale, sottolinea una cosa di grande importanza io credo per le imprese che sono vincolanti per il sistema. Nella mia lunga storia di controlli, di attività, di controllori, diciamo così, delle imprese, di rapporto con le imprese, l'impresa è una delle domande che è sempre stata fatta dall'impresa, uniformità, stesso atteggiamento, stesso comportamento. Questo per poter far corretti investimenti, sapere come rispettare le norme e anche per evitare distorsioni di mercato. Quindi il sistema ci permette, o perlomeno ci permette, e vede con particolare importanza il fatto di introdurre nel nostro sistema prodotti vincolanti per il sistema, trasparenti, noti al mondo delle imprese. Parere sui provvedimenti del governo, questa è poi anche la novità della legge istitutiva, di natura tecnica, quindi sentiamo molto forte la responsabilità che ha il sistema nel dire la sua, con grande responsabilità, con grande equilibrio e con grande attenzione anche a quelli che sono gli interessi in senso lato e in senso ampio delle imprese. Cito a questo punto alcune esperienze, io l'ho chiamato innovative, innovative perché non sono grandissime novità, vedrete che sono cose anche abbastanza semplici, abbastanza scontate, ma innovative nel senso che ancora non sono strutturate in quello che è il sistema, non le troviamo in maniera indiretta in quello che è il piano di azione, delle azioni del nostro sistema, però sono di straordinaria importanza se riusciamo a consolidarle per favorire e consolidare il rapporto sistema-imprese, quello che dicevo prima. Sono percorsi formativi, guardate ho scritto per e con le imprese, percorsi formativi molto tecnici, sull'interpretazione di una norma tecnica, sull'utilizzo di strumentazioni, le esperienze che stiamo maturando, che stiamo maturando noi nella nostra regione valgono tanto quanto più sono pensati con le imprese, piuttosto che somministrati alle imprese. Il supporto alla PEA, sapete sono le aree produttive ecologicamente attrezzate, molte regioni hanno queste esperienze, il sistema può essere straordinariamente utile nello sviluppo e nel consolidamento delle aree produttive ecologicamente attrezzate e non solo affinché ci sia il rispetto della norma, ma perché l'area diventa attrattiva, è un modo di presentare le imprese che sono insediate all'interno delle aree ecologicamente. Si stanno provando, testando alcune esperienze di sportelli per le imprese, sono molto sfidanti e molto complicate e anche molto delicate, sportello delle imprese. Mi sento di raccontare un po' l'esperienza che stiamo maturando nella nostra regione, che per il momento vede interesse e stimolo da parte delle attività produttive, legacy confindustria, confitragionato, non è tanto quello di venire a chiedere una domanda per avere degli sconti, ma quello di porre una domanda che per il sistema, per l'ARPA significa dare una risposta non all'impresa, ma alla domanda che prevale una categoria di imprese. E la cosa secondo me di grande rilievo che ho introdotto al direttore tecnico-scientifico anche questi compiti, quello di essere capo, è una volta che noi diamo una risposta, vedete la facca e le pubblichiamo, questa facca e questa risposta, quindi è un'interpretazione, un indirizzo, diventa vincolante per gli operatori della mia agenzia. Una cosa che non riesco a sopportare è che nella mia agenzia i miei colleghi dicano cose diverse all'interlocutore. Ci tengo che si dicano le stesse cose, se non siamo convinti discutiamone, approfondiamo, alla fine troveremo un criterio per decidere qual è il modo prevalente, trasparente, lo pubblichiamo, a tutti sia noto. Credo che questo è il miglior modo per alzare la responsabilità del sistema, alzare la responsabilità, scrivere una facca, una risposta, una facca è molto difficile, molto impegnativa, un conto è parlare, un conto è scrivere, trasparenti, in modo tale che noi diciamo cosa pensiamo, chi non è d'accordo ci faccia la cortesia di dirlo e ce ne discutiamo. Per l'arpa è vincolante seguire quello che ci siamo scritti. È un'esperienza molto complicata, potete solo immaginare, però potete solo anche capire che interesse ha nel nostro sistema un obiettivo, una visione di questo tipo e come va a consolidare il rapporto, la parola rapporto tra sistema e imprese. Mi avvio alla conclusione. Ho citato qui Confindustria per la sostenibilità, importante carta approvata da Confindustria per la sostenibilità ambientale. Ci sono molti punti in contatto tra quello che è l'operatività, la vision, la mission che viene affidata al sistema nazionale dalla legge istitutiva e questa carta approvata da Confindustria. La conclusione. Qual è l'obiettivo che ci stiamo dando come sistema in una fase molto faticosa? Perché è inutile negare che in questo momento prevalgono le energie dedicate a fare il sistema. Un obiettivo che allinea il sistema alle strategie di sostenibilità. Vedete questo logo, lo riconosciamo, è il settimo piano europeo per l'ambiente. Questo è ONU, è l'agenda 30, è la sostenibilità ambientale, anzi scusate, sviluppo sostenibile. Questa è la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il mondo scientifico ha costituito una rete per lo sviluppo sostenibile. E infine quello che ho detto prima è la carta per lo sviluppo sostenibile di Confindustria. Perché ho voluto chiudere, se volete, con questi spazi infiniti che quasi disorientano, per non dimenticare che anche il controllo, anche l'ispezione deve comunque collocarsi in questa cornice. Altrimenti si perde una grande opportunità per poter raggiungere queste che sono politiche di livello internazionale e mondiale e diventa un qualcosa di riduttivo che dopo un po' mina indebolisce il rapporto che ci deve essere tra sistema e imprese. Grazie.